Ben ritrovati su Meteo Giuliacci. Sarà un giovedì abbastanza discreto su tre quarti della penisola italiana anche se comunque il tempo sarà sempre inaffidabile. Qualche pioggia è nevicata sulle prealpi più orientali negli ore centrali del giorno, oltre ai mille metri, verso l'Alto Adige anche qualche fioccata oltre ai 7-800 metri altrove sereno o poco nuvoloso, parlo del nord. Sulle regioni centrali qualche acquazzone, qualche nevicata lungo la dorsale appenninica all'estremo sud, area ionica, Campania, ma soprattutto Calabria, Basilicata con rovesci di piogge temporali e qualche grandinata e anche sulla Puglia centro-meridionale, quindi sul Salento, con venti occidentali, anche dei rinforzi. Qui il tempo più, un solo variabile, ma anche instabile con dei temporali anche di moderata intensità irregolari, ma di moderata intensità. Occhio, come dicevo, anche alle grandinate all'estremo sud c'è aria fredda in quota e quindi il rischio è davvero elevato. Si comincia a colorare il mese di marzo, lo stiamo vedendo nelle città, in anticipo un po', però, d'altra parte, marzo tinge e poi april dipinge. Cari amici di Metro Giuliacci, ci riaggiorniamo presto, arrivederci.